Direttrice, una giornata di sport per i bambini della Marconi. Sì, questa è la ventunesima edizione gioco sport. Tutti i bambini felici, appassionati, con grinta, animati, motivati, partecipano a questi giochi. Ovviamente c'è la partecipazione sempre di tutti quanti, dei genitori, degli insegnanti e del personale alta. Quindi una bella giornata, da pensare che già siamo alla ventunesima edizione. Quindi un'esperienza veramente consolidata. Lo sport spesso nelle scuole viene trascurato, ma è importante che i bambini abbiano anche una cultura sportiva? Assolutamente. Prima di tutto viene l'educazione del nostro corpo. Se noi trascuriamo il nostro corpo, trascuriamo la nostra vita. Quindi fondamentale per dare maggiore sicurezza ai bambini è necessario e fondamentale partire proprio dal corpo. Viva il corpo e poi il resto!